Camporgiano ha visto un importante momento legato al ricordo della Grande Guerra con una serie di iniziative concluse con la presentazione del libro dal cerchio all'isonzo al piave di Enzo Menconi ed Ezio Della Mea presentato con grande partecipazione e consenso al centro civico. Alla presenza di tante autorità tra cui il sindaco di Camporgiano Francesco Pifferi ed anche il prefetto di Lucca Giuseppe Scaduto, la filarmonica Pietro Mascani di Camporgiano ha prima accompagnato la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione di una corona d'alloro al monumento in onore ai caduti di tutte le guerre nei pressi della scuola secondaria di primo grado del capoluogo. Poi l'appuntamento si è spostato al centro civico dove saluti istituzionali e seguita la presentazione del libro sui caduti di Camporgiano nella prima guerra mondiale. Un sentito omaggio alla memoria anche dei 62 camporgianesi strappati alla vita durante la Grande Guerra.